Ciao ragazzi, è qui Andrea Papa che vi parla. Oggi, dopo 18 anni di vita, ho sbloccato finalmente il telerasporto. Potere che volevo dall'età di 11 anni, però finalmente ci sono riuscito. Come l'ho sbloccato? L'ho sbloccato tramite lo studio, tramite l'allenamento, tramite soprattutto a libri di storia, tanti anni fa su come sbloccare questo potere, tramite soprattutto la meditazione. Vi spiego oggi come funziona il telerasporto. In pratica noi faremo il salto della guaglia. Che cos'è il salto della guaglia? Ve lo spiego subito. In pratica è un semplice salto. E vi l'ho trasportato. Adesso io non mi sono trasportato perché non sto pensando al posto dove volevo andare. Giustamente voi, cioè se voi fate questa domanda io subito vi rispago. Perciò, il salto della guaglia è così. Voi saltate e andate in quel posto, però non dovete pensare molto molto intensamente. Io in questo momento voglio andare nella persona in cui manca di più. Voglio andare a trovare mia madre che dopo che non la trovo. Quindi andiamo, salto della guaglia e partiamo. Ok ragazzi, come potete vedere, il telerasporto funziona. Fatemi sapere a voi come va. Ciao a tutti ragazzi.